In Toscana tra il 2010 e il 2011 il numero dei morti sul lavoro diminuisce e passa da 57 a 52, quasi il 9% in meno, mentre in Italia la diminuzione è stata solo del 2%. A fornire il dato è l'Inail regionale durante la presentazione del report toscano 2010-2011. La diminuzione è sicuramente effetto anche della riduzione delle ore lavorate, i numeri sono sempre alti perché puoi dire che si passa da 57 infortuni mortali nel 2010 a 52 significa 5 in meno, ma comunque restano tanti. Nella Pide o nell'edilizia e nell'agricoltura si è verificata la maggior parte degli infortuni che comunque diminuiscono del 4,4% passando dai quasi 62.000 casi del 2010 ai quasi 59.300 del 2011. Sul fronte delle malattie professionali contratte sul luogo di lavoro invece il dato è in forte crescita, in tutta la Toscana più 25%. Ci sono più denunce perché i lavoratori hanno acquisito consapevolezza che oltre all'infortunio c'è anche la malattia professionale che era un fenomeno un po' meno conosciuto. Il primato in questo caso spetta a Lucca dove l'incremento delle malattie professionali denunciate in un solo anno è stato del 32%. Segue Pisa dove le malattie sono aumentate del 19%. L'incremento delle malattie professionali è minore a Siena, 2,5% e a Prato che si attesta al 2%. Grazie. 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 Grazie.